Buongiorno a tutti, sono le 13.20 di domenica e arriviamo finalmente all'analisi regina da cui è partito non soltanto questo canale, in realtà sono partito da TradingView oltre 7 anni fa e torno a sottolineare una cosa che mi avete fatto notare che mi sono probabilmente dimenticato di raccontarvi nell'analisi su DAX. Quello che conta in questo momento, soprattutto su MIB dopo questi raccordi, è che noi siamo arrivati a 163 barre l'inverso. 163 barre è talmente vicino al massimo di durata del semestrale che va bene, facciamo 165, aggiungiamo 3 giorni e noi non riusciamo a fare un altro settimanale inverso. Per questo motivo, da lunedì in avanti, la probabilità più ampia è quella di iniziare a scendere. A scendere dove? Prima su questo livello a 33.872.26 un attimo che controllo 872.26 minimo di partenza ok, divincolato l'aspettativa principale è quella che dopo un primo 107 giorni semestrale inverso e un secondo trimestrale inverso si possa andare a chiudere quindi a dunque ok in realtà con tre mensili più un raccordo primo mensile inverso secondo mensile inverso terzo mensile inverso scusate quarto mensile inverso più raccordo si possa andare a chiudere appunto un semestrale di inverso che significherebbe poi che cosa in in soldoni discesa discesa verso quali livelli? Anche in questo caso non sto ad azionare l'algoritmo anche perché lo riservo al gruppo premium e primo target di 32.980 successivamente vedremo l'impatto con la media mobile e poi altro d'accordo? questo è quello che dovremmo aspettarci anche perché se abbiamo avuto un ciclo di inverso più ancora l'unica cosa che può fregarci ovvero una finta a ribasso con rialzo ovvero un raccordo di inverso del grado corretto tra un semestrale e un semestrale finito il discorso si scende non non ci sono altre cose in particolare da dirsi vero vero verissimo noi faremo estremamente attenzione anche a partire dal t-3 inverso e dai cicli giornalieri a vedere che tutto vada come ci racconta questo grafico quindi l'aspettativa di discesa è forte peraltro bisogna soltanto ricordarsi che è sempre estremamente bene guardarsi attorno per capire se è tutto corretto ricordandoci che potremmo persino essere a 265 giorni di inverso perché ricordiamoci che gli swing sono una conferma di ciò che ci aspettiamo ma possono rivelarsi anche possono anche non essere violati ok per cui la cosa più importante che appunto faremo è proprio quella di vedere che inizino piano piano a vincolarsi i settimanali e tutto il resto in modo che quello che è l'attesa di discesa poi piano piano si concretizzi e non ci prenderemo rischi in anticipo a shortare in anticipo come purtroppo visto fare altri trader anche quotati noi attenderemo il momento corretto e quando è il momento corretto? 1 inizieremo a vedere se ci sono dei vincoli sui settimanali piuttosto che sui T-3 e tutto il resto e successivamente controlleremo tutte le cose passo a passo anche se ribadisco dopo questo movimento fatto dal 27 di febbraio l'unica aspettativa che si può avere e di discesa che però controlleremo passo a passo non ho altro da raccontarvi vi ringrazio per il vostro tempo se il video vi è piaciuto mettete un bel like iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto iscrivetevi eventualmente anche al canale Telegram se non l'avete ancora fatto e volete essere avvisati appena uscirà un nuovo video buona domenica delle palme a tutti arrivederci